Tanta l'intenzione di agganciare i senesi, il gol! C'è Turkovic e andiamo al 2-0, 2-0 ego! Nascosto il giocatore che sta in fondo a destra, dato le distanze. Il gol del 3-1 Siena, attacco ancora Siena, Yosufin che è in botta! Marcare la linea, il tiro del numero 23, Turkovic, via Bronzo, 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 no! Yosufin, tempo tempo lo scarico! Palla è da lì dietro, Bolzano ma grande intervento di Bronzo! Una finta di corpo, Yosufin, 1-2, il sottomarino di Yosufin! Palleggio per un palleggio, terzo tempo lo scarico, Yosufin! Passaggio, va a tirare il numero 19! Yosufin, no! La botta, rimbalza il gol! Siamo in difesa, Radovic! Arribategli la conclusione! Bronzo! 8-2, no! 7-2, 8-2! Si muove nel perimetro lo scarico in gol! Questa volta il 14 perde palla, il terzo tempo e questa volta non ce n'è! Il cronometro! Acceleriamo lo scarico su Amato che si incunea! Possesso di Mata, il tiro peccato! Arrivato, meno male, non mi dovevo sbagliare! Yosufin, bolide di Yosufin! Un'accelerazione, vada a sinistra, il tiro del numero 13! 11-50, Sonnerer, davanti a Leban, forza Leban! Ego! 17-17, Mata, fallo in attacco, Ego! Nelson, il gol di Nelson! Il tiro, ancora Bolzano! Il tiro è stavolta... Ego all'inizio! Lo scarico... Rado! Cicce! L'attacco, perché non si può prendere gol di lì, eh? Una calamaglia, ufficiale Ego, il palo! Amato, al limite, lo slalom! Il gol di Amato! Scarico per Mata! Il tiro di Yosufin, lo stacco! Balla in mezzo alle gambe di... Non parte, Turkovic e trova l'angolino! Maglio di bronzo centrale, il tiro di Nico Casa, pare il portiere, vola Redici! Il quadro of pitch! Yosufin, eccolo, ecco! Lasciamo essere bravi a chiudere! Perimetro, perimetro, gol! Attacca però il Bolzano, il gol subito! La bronzo che retrocede, arriva Amato! Amato! Scarico perimetro centrale! Eh, non ci siamo questa volta Leban! Va a cercare il posizionamento! Il tiro, il palo! E la croccolina di Nelson! Pallo di Sonneri, in attacco! Branzo! Palla! Il tratteggiato in atta, la palla! Nelson dal limite! Nelson, e siamo a 5! Lo stradico dietro le spalle! Radovcice! 23 in panca, era Turkovic l'autore del fallo! Accettarla! Il tiro! Nelson! Pranzo! Cosa di importante! La palla! Il passante schiacciato! Perioso, una finta! Destro, sinistro! Il tiro para! Posizionamento a destra! Nelson! Nelson! La volta di Nelson! Sarei bravi ragazzi! Perché la riconquistiamo! Bravissimi! Vediamo se riusciamo! Stavolta la trottolina la tro... Ribattuta! Attenzione! Sottogamba! Nelson! Amato! Amato! Bravissimo Volarevic che vola a destra! E il gol di... 1, 2, 3... Ancora Iosufin! La trottolina! Iosufin lo scarica in porta! Ehi! Ai! Attacca la... Che botta ma è centrale! Il tiro, l'inserimento! Casa! 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 Nelson! Avanziamo! Casa! Pala del Bolzano! Iosufin! Il... Perimetro di vinci! Più 5 a 24esimo della ripresa! Eh! Lì non si copre però! Attenzione! Palla che rimane lì! E poi dal medico! No! La palla in maniera... Fallace! E veniamo immediatamente pulito! 12! Lava il piede! La santità di Alessandro Levan! Eh! Eh! Sì! Bronzo! La parata di Volarevic! Vince ancora Bro! Impronunciabile! Attenzione! Il gol del 23! Amato! Amato! Demis! Basa sinistra! Scarta va! Ammettano il gol! Demis! Sam Demis! Poi anche... Di Radovcic! Del 29! Ave, ave, ave! Ave, ave!